Buonasera Marina, da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli. Andiamo subito con i dati sulla diffusione del virus in Abruzzo, i dati diffusi, il bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla sanità. I nuovi casi di oggi sono 64, di questi poco più della metà, per la precisione 34, si sono registrati nella provincia dell'Aquila, 15 in quella di Teramo e poi 9 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Pescara. I tamponi analizzati tra molecolari e antigenici, oltre 6.500 per la precisione 6.689, questo significa che il tasso di positività è di quasi l'1% per la precisione lo 0,9, diminuiscono anche i ricoveri, in totale oggi 178, meno 9 rispetto a ieri, di questi 161, meno 10 in terapia non intensiva, mentre 17 più 1 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono meno 57 persone, adesso il totale è di 5.441, 128 sono i guariti. Il bilancio delle vittime fa registrare un più 2, il totale dall'inizio della pandemia è salito a 2.475. Infine gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.619, meno 66 rispetto a ieri. Inoltre ricordo che domani il consueto punto dell'unità di crisi regionale, che viene fatto ogni venerdì, si svolgerà all'Aquila nel pomeriggio con inizio alle 15.30. Marina. Sì Paolo, poco fa ti ho chiesto, non era ancora forse perfezionata l'audio, ti ho chiesto dove ti trovi, mi sembra di capire che sei al porto turistico di Pescara, giusto? Sì, siamo qui al Marina di Pescara, un po' perché c'è questo bel sole anche visto il periodo, ma anche per regalare qualche scorcio un po' diverso della nostra città, fermo restando che parliamo pur sempre di emergenza sanitaria, quindi anche un po' per alleggerire il clima che c'è. Senza dimenticare ancora che qui al Marina di Pescara per questa estate è stato preparato anche un interessante cartellone estivo, naturalmente si spera che i dati, quindi i ricoveri, ma anche i nuovi casi positivi rispetto a quelli già registrati oggi, diminuiscano sempre di più il tutto anche grazie alle vaccinazioni che stanno andando molto forte anche in Abruzzo. Sì, infatti, tra l'altro prima facevi cenno all'unità di crisi che si terrà domani pomeriggio all'Aquila, sappiamo che il Presidente Marsilio già caldeggia la zona bianca e ha chiesto proprio al Ministro Speranza un anticipo, questa risposta non è arrivata, quindi verosimilmente l'Abruzzo sarà in zona bianca, se tutto va bene, se tutto prosegue così, dal 7 giugno, come è stabilito. Giusto Paolo? Tu poi seguirai proprio questo vertice domani. Eh sì, appunto, lo dici bene, Marsilio vorrebbe già da lunedì 31 che l'Abruzzo sia in zona bianca, però credo che non sia possibile. Se per la terza settimana, come dice il protocollo, in Abruzzo i dati saranno buoni, scatterà la zona bianca. La zona bianca nel nuovo scenario cambieranno alcune cose, e soprattutto ne ricordo una, quella che riguarda il coprifuoco che scompare, quindi non ci saranno limitazioni orarie sulla circolazione. Quello che invece non cambia sono i criteri base della prevenzione, ovvero mascherina, distanziamento sociale e naturalmente nei luoghi chiusi, aerazione e anche sanificazione. A questo punto restituisco definitivamente la linea allo studio. Da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli, il più cordiale, buon pomeriggio, o meglio, buonasera a tutti voi.